Grazie, grazie al nostro Presidente di Commissione, Gian Paolo Vallardi, grazie al Ministro. Questa è un'azione condivisa, detto bene prima, anche perché noi ci teniamo in modo particolare a tutelare quelle che sono le nostre oltre 750.000 imprese agricole presenti nel nostro Paese, oltre 71.000 imprese che lavorano nell'alimentare, nella trasformazione dei prodotti alimentari. In effetti noi sappiamo bene che questo, come dato dal punto di vista del prodotto interno lordo, l'agroalimentare rappresenta circa il 10%, però, 10 punti di PIL, però dobbiamo pensare a un dato importante che è anche l'aspetto relativo a tutto quello che è l'esport del nostro Paese. E se noi identifichiamo correttamente il prodotto italiano, diamo maggior vigore a quella che è la parte iniziale della filiera. Se voi pensate che in un prodotto che viene venduto da un agricoltore, fatto 100 il valore totale, gli rimane circa 6 euro di utile all'agricoltore sul prodotto fresco e al commercio e alla logistica gli rimangono almeno 12-13 euro. significa che c'è uno squilibrio. Il fatto di identificare correttamente il prodotto come prodotto italiano oppure di provenienza, come diceva bene prima il Ministro, da altri Paesi, fa sì che il consumatore possa scegliere. Scegliere in base anche a quella che si diceva prima che è stata un'azione importante, un sondaggio importante, quello di verificare quanta attenzione c'è da parte del nostro consumatore al prodotto made in Italy, al prodotto vero italiano, oltre il 90% e significa che se noi riusciamo a dare maggior valore all'inizio della filiera riusciremo anche a invertire quella rotta che è la decrescita delle aziende agricole. Se pensiamo che dal 2017, anno completo, oltre 2.000 imprese agricole hanno chiuso nel nostro Paese di piccole dimensioni, significa che per dar maggior valore a questo prodotto dobbiamo trovare la giusta strada e il giusto metodo. Allora, etichettare fin dall'inizio la materia prima, laddove noi la identifichiamo correttamente, dicendo il Paese di origine, il luogo di origine, diventa la vera forza trainante di un valore aggiunto che daremo al prodotto nella fase finale. A quel consumatore che dice che per lui il prodotto italiano, tra virgolette, significa sano, buono, genuino e soprattutto significa un prodotto che ha garanzie di salubrità nella sua preparazione. E questo è fondamentale perché alla fine diventa sì che la tutela completa dà una garanzia sul cibo che mangiamo ogni giorno. L'altro aspetto fondamentale che vorrei anche citare è che siamo consapevoli che l'agroalimentare italiano è anche un forte importatore. Abbiamo oltre 40 miliardi di euro l'anno di import di prodotti agroalimentari. Ma con questo noi non vogliamo fermare quello che è la produzione agroalimentare dal punto di vista della trasformazione, ma identificare correttamente i prodotti farà sì anche di aiutare tutta l'industria della trasformazione. Perché a questo punto avremo il prodotto italiano vero e il prodotto che viene importato correttamente, anche questo sano, salubre, che avrà la sua parte, la sua fetta di mercato. Perché se il consumatore italiano consuma nella spesa circa 160 miliardi di anno nell'alimentare significa che di spazi di crescita ne abbiamo e vogliamo far crescere correttamente questo Paese e soprattutto questo settore. Pertanto noi siamo convinti che la scelta sia giusta. Abbiamo optato, il Ministro si sta battendo, lo sta facendo molto bene a livello europeo per far passare questa linea. In poco tempo daremo delle risposte concrete. Soprattutto in termini di quel valore aggiunto che è fondamentale, nell'utile dell'impresa agricola. Perché se no, noi avremo, non riusciremo a invertire la tendenza di quelli che saranno i produttori veri, la salvaguardia dell'ambiente, l'aspetto sociale di quello che è l'agricoltore, il produttore primario e il piccolo produttore. E salvaguarderemo anche quelle che sono le identificazioni geografiche protette. Oltre 850 nel nostro Paese, 295 sono nel food, 253 nel wine, ma sono riconosciute in tutto il mondo. Perciò dare forza, dare energia, ma soprattutto dare valore, significa identificare correttamente i prodotti. Noi non vogliamo che ci sia più speculazione sul Paese di origine. Se un prodotto è originario di italiano, identificato bene. Originario di un Paese estero, di qualsiasi sia, deve essere identificato sull'etichetta. Grazie.